ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che è uscito da poco nelle sale che va messo tra i film più attesi di gennaio che è il primo re nuovo film di matteo rovere con alessandro borghi e alessio lapice ne parlo come sempre con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo ciao giulio il film di rovere è un film un po' anomalo per il nostro cinema oddio se andiamo a guardare nella storia i film nella storia del cinema italiano i film storici di film storici ce ne sono stati tanti questo però si inserisce in un modo decisamente diverso molto originale e guardando probabilmente anche non solo il mercato italiano ma quello internazionale sì assolutamente diciamo che nel cinema italiano l'avevamo come tradizione poi negli ultimi 30 anni abbiamo perso un po questo questo genere matteo rovere che secondo me è un produttore un regista molto intelligente ci ha provato perché ha avuto la fortuna di avere a disposizione un budget molto grande si parla di 8 9 milioni per lo standard italiano è veramente tanto perché in realtà una produzione internazionale non è solo italiana c'è anche di mezzo il belgio e la germania quindi ha avuto questa fortuna e secondo me ha sfruttato benissimo tutti questi soldi facendo un film non convenzionale un film molto interessante molto umano e affascinante voglio dire subito una cosa merito al film e poi ne parliamo nel dettaglio che come di scuro saprete il film è in latino ora questa cosa del latino non vi deve scoraggiare perché i dialoghi in realtà sono molto serrati molto veloci è latino latino molto primordiale molto semplice per cui non vi condiziona la visione del film oltre al fatto che ci sono i sottotitoli ma non fatevi spaventare da questa caratteristica e in latino anzi in proto latino perché perché appunto noi nel film assistiamo alla nascita di Roma sì più che assistere alla nascita di Roma ci incamminiamo verso quel quel momento perché Romolo e Remolo in realtà erano li definisco impropriamente barbari perché erano due uomini due fratelli che cercavano una una dimora dove dove stanziarsi il problema è che a quei tempi stiamo parlando del settimo ottavo secolo avanti cristo ovviamente ogni ogni momento ogni viaggio poteva poteva essere anche l'ultimo per i protagonisti e quindi loro cercano di vivere alla giornata cercano di creare un piccolo esercito per appunto cercare di trovare quella chiamiamo così terra promessa dove potersi insidiare il film sì lo si può definire come il film che racconta la genesi di di Roma ma in realtà è quello ancora più interessante è un film su due fratelli che è la caratteristica che viene meglio del viene meglio fuori del dal film oltre al fatto che c'è una ricostruzione storica e proprio di atmosfera molto molto affascinante anche un sacco di effetti speciali un sacco alcuni effetti speciali tant'è che il film insomma è partito la realizzazione è partita due anni fa e il lavoro di post produzione è stato veramente molto alto sì è vero si vede nel senso si vede che si ha a disposizione dei begli effetti speciali che non sono come potrebbe essere il cinema americano mainstream effetti speciali che servono a stupire ma servono a portare lo spettatore dentro un periodo storico lontanissimo da noi e già da subito respiri quella quella atmosfera di un tempo lontanissimo passato vedi anche proprio un lavoro sul sugli attori sui costumi molto maniacale molto precise gli effetti speciali servono a rendere il tutto molto credibile ci sono anche degli scontri all'arma bianca molto molto violenti dove sono intervenuti anche gli effetti speciali ma non non si vedono diciamo che è una produzione ripeto di matteo rovere molto ambiziosa e però molto molto bella due attori giovani ma soprattutto uno insomma decisamente sulla cresta stiamo parlando di alessandro borghi visto recentemente in sulla mia pelle e di alessio lapice che invece un volto magari meno conosciuto ma chi segue che ne so gomorra l'aveva già l'ha individuato ecco sì loro due funzionano molto bene di alessandro borghi cosa possiamo dire di più di quello che abbiamo detto in passato con un attore che ha avuto negli ultimi tre anni una crescita esponenziale incredibile tutto quello che fa all'80 90 per cento è un buon ottimo film quindi di lui avevamo la certezza anche se confrontarsi appunto con un film storico di un passato remoto è anche quello difficile lui ce la fa benissimo altrettanto parlo voglio parlare bene di alessio lapice che in realtà all'inizio del film fa un po da da spalla ma nella seconda apertà in seconda parte del del film che dura quasi poco più di due ore incomincia a uscire fuori e gioca molto bene il ruolo di romolo mentre alessandro borghi e remo ecco è un film e poi chiudiamo insomma questo disamina che è stata insomma ci ha fatto capire che il film è veramente una buona prova è un bel esempio di cinema italiano beh dicevo è un film che mescola anche violenza e avventura sì assolutamente violenza e avventura sono due elementi importanti del film a parte come un film di avventura in realtà poi quando romolo e remo trovano quello che potrebbe essere il loro rifugio il loro primo posto dove mettere così il mattone anzi costruire le prime capanne di Roma ecco lì invece cambia completamente il tono del film e diventa un film molto violento molto di rivalità oltre al fatto che oltre ai personaggi principali in realtà c'è tutto un contesto di personaggi secondari che riproducono perfettamente il concetto di di mito di personaggi mitologici sia della tradizione latina ma anche quella greca ad esempio c'è un indovino che è un personaggio molto affascinante e serve a dare un'immagine globale molto credibile di un tempo che ovviamente è lontano anni luce da noi Matteo Rovere ha firmato il primo re che è al cinema in questi giorni Alessandro Borghi e Alessio Lapice i due protagonisti al cinema TV Landia sembra che sia piaciuto veramente Andatela a vedere, sosteniamo il cinema italiano perché un film del genere merita assolutamente di essere visto Per questa recensione è tutto, grazie per Paolo, ciao a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube di Cine TV Landia